L'Istat in questi giorni sta lanciando la terza edizione del censimento delle istituzioni pubbliche. Si tratta di una rilevazione totale che riguarda tutte le istituzioni pubbliche, sono circa 13.000, e tutte le unità locali, che sono 100.000. È la terza volta che l'Istat effetto a questo censimento. Abbiamo raccolto i dati sul 2015 e sul 2017 e da adesso in poi questo censimento sarà triennale. Le informazioni che raccogliamo con il censimento servono ai cittadini, ai decisori pubblici, per capire come si evolve la pubblica amministrazione, come è organizzata, come la pubblica amministrazione si sta digitalizzando, come forma il proprio personale. C'è poi una nuova sezione quest'anno che riguarda l'introduzione dello smart working, del lavoro agile, che tutte le amministrazioni pubbliche sono state costrette ad adottare, che ha rivoluzionato l'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione. I dati vengono raccolti solo via web attraverso un questionario online che è disponibile dal 18 marzo, compilabile dal 18 marzo al 30 luglio. I primi risultati del censimento saranno disponibili a dicembre 2021 ed è importante che i risultati siano disponibili presto perché per avere una pubblica amministrazione migliore, che sia più adeguata ai bisogni del Paese, soprattutto in una fase di difficoltà dovuta alla crisi sanitaria, servono informazioni tempestive, accurate e complete. Ed è per questo che chiediamo a tutte le istituzioni pubbliche di partecipare attivamente al censimento permanente delle istituzioni pubbliche. Grazie per l'attenzione.